Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Pierluigi Riziato, giornalista, in questo caso anche scrittore, perché è l'autore di questo volume, Storia di Mestre dalle origini ai giorni nostri, edito da Biblioteca dell'Immagine. Per presentarlo, leggo però alcune righe dalla Sinossi che mi ha inviato, perché le trovo particolarmente introduttive, scusate il gioco di parole. Nel 1924 la casa editrice Sonzogno, nel pubblicare una collana di spense settimanali dal titolo Le 100 città d'Italia illustrate, riservò il fascicolo numero 21 alla città di Mestre. Le prime due uscite erano dedicate a Roma e la terza a Milano, pensate un po'. Il fascicolo numero 11 si occupava di Venezia, il 16 di Verona, il 19 di Padova e il 20 di Treviso. Una scelta giusta a quella dell'editore milanese dedicare appunto un'uscita anche a Mestre, in considerazione del fatto che proprio l'anno prima a Mestre era stato ufficialmente riconosciuto dal re Vittorio Emanuele III il titolo di città. Inaspettatamente però solo due anni dopo, nell'agosto del 1926, Mestre veniva accorpata amministrativamente a Venezia e da quel momento iniziò la sua vita come frazione della città più famosa del mondo. Insomma, creando, è scritto un'anomalia perché è probabilmente una frazione tra le più grandi, 180 mila abitanti. Allora, con un po' di ironia, voglio dire che chi non vuole bene a Mestre potrebbe dire che la storia di Mestre potrebbe essere una brochure, insomma, non un libro. In realtà la sorpresa è che questo è un libro corposo, da cui emerge, fra le tante cose, il ruolo che Mestre ha avuto anche come anticipatrice, innovatrice, rispetto a scelte fatte da città più importanti in periodi successivi. La prima domanda è, a questo punto cosa è successo? Perché Mestre, da città, nel momento in cui diventa frazione, fondamentalmente scompare, non solo dalla toponomastica geografica, ma dal ruolo sociale? Il fatto che nel 1926 venga coattivamente accorpata a Venezia e diventi una frazione, è automatico che la città a tutti i livelli inizia progressivamente a scomparire. Lo dimostra ancora oggi il fatto che in tutta la rete autostradale italiana, arrivando a Mestre, non si arriva a Mestre, una città di 180 mila abitanti, che ha annualmente 3 milioni di turisti che vi arrivano e che vi soggiornano, che presto saranno 6 milioni con tutti i nuovi alberghi che stanno realizzando. Però onestamente soggiornano per andare a Venezia, la minima parte verrà a visitare Mestre. Verso l'aeroporto c'è l'uscita Dese, che è una frazione di Venezia e anche lì avrebbe dovuto essere scritto Venezia. Nel caso di Mestre, Mestre non esiste più nella toponomastica autostradale. La stessa frazione, se noi arriviamo a Mestre, il treno, i nuovi treni di adesso, ci dicono che siamo in arrivo a Venezia-Mestre, che se uno non la conosce, pensa che Mestre sia una stazioncina, la stazioncina bis di Venezia, come un'altra stazione che ha il nome di Firenze, che ha a tutti gli effetti un paese con una stazioncina di servizio a quella di Firenze. Ma non è così, perché Mestre ha 180 mila abitanti e è la città non d'arte che attrae più turisti in Italia. Ma dai! Sì, è la città non d'arte che attrae più turisti in Italia. È scritto anche qui nel libro. E al di là di questo, delle faccende toponomastiche, vediamo per esempio Google. Su Google Maps noi chiamiamo Via Circonvalazione Mestre e ci appare Via Circonvalazione Venezia, che di per sé è già un assurdo, se ipotizziamo Venezia con una circonvalazione, cosa che non esiste. Dicevo prima, in questo libro viene evidenziato il ruolo di Mestre che precorse scelte città più blasonate nella dotazione di servizi pubblici come il tram, l'ospedale, l'illuminazione, l'acquedotto e il gas. Capace città anche di dotarsi all'inizio del Novecento di un primo nucleo industriale, che non è Porto Mariera ovviamente, nell'area del Canal Salso, equilibrato in sintonia con le proprie possibilità di sviluppo. Sì, ci sono degli anni chiave, sempre mentre Mestre era ancora comune autonomo, che vanno fra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Fra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento, Mestre si dota, in anticipo rispetto ad altre città del Veneto, posso citare Padova, posso citare Verona o altri, si dota, per esempio, dal tram. Il tram si rese necessario perché da Venezia a Mestre si arrivava e si approdava a San Giuliano e per il trasporto di persone da San Giuliano, Celer da San Giuliano a Piazza Barche, serviva un mezzo altrettanto celere e fu ipotizzato il tram, che fu prima a cavalli e poi a trazione elettrica e fu, penso, il primo tram a trazione elettrica nel Veneto. Ma negli stessi anni sorge un ospedale moderno con attrezzature all'avanguardia. Nel 1912 viene inaugurato l'acquedotto pubblico e sempre nel 1912, ad ottobre, viene inaugurata anche la Galleria Vittorio Emanuele che avrebbe dovuto poi espandersi con due rami, uno verso la piazza e uno verso l'ospedale, cosa che poi non è avvenuta. Comunque, nel suo piccolo, ancora oggi, Mestre è una delle tre città in Italia che hanno una galleria che porta al teatro comunale. Adesso è il Tognolo, ma il Tognolo è stato a lungo amministrato dal comune. Queste città sono Milano, con la galleria che porta alla scala, Napoli e, appunto, Mestre con la sua galleria un po' più ridotta, però è una caratteristica anche questa di Mestre. E, come dicevi tu, il primo sviluppo industriale è nell'area del Canal Salso, perché nell'area del Canal Salso, cioè il Canal Salso era, a tutti gli effetti, un'importante via di comunicazione di merci per Venezia, per cui le prime industrie sorgono in quell'area perché, con delle barche, i prodotti, una volta fatti, venivano trasportati a Venezia. Si ipotizzava, aggiungo anche, Luigi Negrelli, che fu l'ingegnere che poi progettò il canale di Suez, che allora era responsabile delle infrastrutture in Italia, si ipotizzava che, data la crescita e lo sviluppo industriale nell'area del Canal Salso, la stazione di Mestre dovesse approdare proprio a ridosso del Canal Salso e diventare una stazione non di transito ma di stop, in modo che i treni arrivavano lì e poi tornavano indietro e andavano o a Venezia o a Padova. Poi fu lo stesso Luigi Negrelli, siccome si ipotizzava già un nuovo sviluppo industriale veneziano nell'area di Marghera, che disse che è meglio farla dove poi è stata fatta perché congiungeva con Venezia e aveva una fermata a Marghera che c'è tuttora sostanzialmente di Mestre Porto Marghera. La caratteristica di questo libro, intanto vediamo alcune immagini storiche, è quella, come è stato definito, di essere una cronistoria che arriva fino ai giorni nostri. Ma quando parte la storia di Mestre? La storia di Mestre, allora c'è una cosa curiosa, un collega del Gazzettino una ventina di anni fa quando c'era, quando ci fu il tentativo dell'amministrazione Cacciari di spostare quei banconi che sono lungo il Canal Salso, a ridosso del parco di San Giuliano, spostarli in un altro luogo per rendere omogenea l'area di San Giuliano e si ipotizzò di spostarli all'Isola delle Statue. Non c'era specificato nell'articolo dove era quest'Isola delle Statue. L'Isola delle Statue poi, andando in internet o scoperto, nello scoprirlo sono arrivato a Bari, Isola delle Statue Mestre, in un sito di Bari. Perché? Perché i subacqui del gruppo archeologico veneziano avevano scoperto delle pietre lavorate, degli attrezzi da lavoro risalenti al Mesolitico, quindi 8.000-10.000 anni avanti Cristo, nell'area di Forte Marghera. Infatti l'Isola delle Statue è la prima isola oltre Forte Marghera. Altre scoperte, ed erano a Bari per fare un convegno proprio su queste scoperte, penso risalga nel 2007, cose così. Altre scoperte analoghe di prodotti lavorati e risalenti al Mesolitico sono stati fatti anche nell'area di Piazza Barche e nell'area di Via Rielta. Questo significa che il territorio di Mestre era abitato fin dai tempi del Mesolitico sostanzialmente. Una comunità è fatta anche di personaggi illustri. Ne possiamo citare qualcuno per Mestre? Sì, mi piace raccontare uno scienziato che è stato nato a Mestre, che è stato l'uomo che praticamente ha dato l'avvio al piano di lancio di satelliti in Italia dell'Agenzia Spaziale Italiana. Luigi Broglio si chiamava. Questo Luigi Broglio nasce a Mestre e da giovane si trasferisce a Roma. A Roma si laurea e appunto diventa un ingegnere spaziale fra i più apprezzati al mondo, tanto da venire definito il von Braun italiano. E fu grazie al suo operato che l'Italia fu il terzo Stato a lanciare un satellite nello spazio. Posso citare Alessandro Pomi, un artista che è quello per dire che ha fatto l'affresco sul soffitto del Teatro Toniolo, che ha fatto gli affreschi esterni del Celsior che ancora si vedono e ha fatto altre opere. Questo Alessandro Pomi fece mostre un po' in tutto il mondo, soprattutto a Pittsburgh e a Philadelphia. E non lo dico io, lo dice un critico d'arte che Karl Hopper, probabilmente in America lo conobbe e dice che l'arte di Hopper fu influenzata proprio dalle opere di Pomi. Posso citare un altro ancora, Dalle Molle. Dalle Molle fu quello che, Mestrino, fu quello che inventò il Cinar. E si dice che anche l'idea di Calindri, che è in piazza San Babila a Milano, Ernesto Calindri in piazza San Babila a Milano, fa quel carosello in mezzo alle auto che girano attorno, sia stata anche quella un'idea sua. Un altro uomo illustre, poi magari ci fermiamo qui, è Zampironi, che è quello che inventò i famosi... Zampironi, così richiamiamo. Ed è curioso, non è scritto nel libro, ma posso narrarla come aneddoto personale, che mio nonno, Francesco Riziato, lavorava proprio presso la ditta Zampironi come amministratore e mi raccontava che ci fu una riunione che una volta inventati questi zanzari fugi, che allora i primi erano a forma di cono, ci chiesero adesso come li chiamiamo. E mio nonno disse come volete chiamarli, chiamiamoli Zampironi. Ecco, questo è un aneddoto che mi venne raccontato mio nonno in merito a Zampironi, questo illuminato imprenditore che si stabilì a Mestre sostanzialmente. Grazie a Pierluigi Riziato, collega giornalista e autore di questo libro, vale la pena di leggerlo, La storia di Mestre dalle origini ai giorni nostri, edizione Biblioteca dell'Immagine, ve ne abbiamo proposto un semplicissimo sunto, il resto naturalmente nelle pagine del volume. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. A alla prossima. Buon lavoro anche a voi. Buon lavoro anche a voi.